Pierluigi Linardi è l'amministratore di Banca d'Alba che rappresenta il territorio della Liguria, un territorio in cui Banca d'Alba ormai si è radicata e continua nella sua azione, un'azione anche a volte a sostegno alle imprese come è successo per i danni del maltempo. Come è noto, Banca d'Alba è presente perché proprio le caratteristiche dell'istituzione di una banca di credito operativo è quella di difendere e tutelare il territorio. Purtroppo ci sono stati degli eventi climatici che non sono stati piacevoli, hanno creato un sacco di danni, specialmente nel Savonese, nel Alassio e Albenga dove Banca d'Alba è presente come imperia e di conseguenza il Consiglio d'amministrazione ha pensato di mettere a disposizione degli imprenditori di chi ha avuto i danni più gravi una cifra piuttosto importante che si può attingere con interesse zero per un anno e di conseguenza è una bellissima operazione. E qui è anche un segno di solidità da parte di una banca. La banca sicuramente ha chiuso un bilancio, posso anticipare, poi sono sicuramente altri organi che lo pubblicheranno in maniera corretta, ha chiuso comunque un bilancio eccellente. La banca è decisamente patrimonializzata in modo sostanzioso, però ricordiamoci che il patrimonio della banca sono gli oltre 56 mila soci che partecipano vivamente alla vita della nostra istituzione. Envio Curti è il vice direttore generale di Banca d'Alba, una banca che ormai mi permetto di dire che non è più soltanto piemontese ma si è radicata da anni nel territorio Ligure, ma che cosa vuol dire questo proposito di essere banca di credito cooperativo in un territorio come quello della Liguria? Vuol dire avere una missione molto particolare, sta nel DNA delle banche di credito cooperativo, ai tempi non erano presenti nel territorio Ligure e questo ci ha gratificati molto, la possibilità di portare un'esperienza nelle persone e nella gente di questo territorio. Fare banca di credito cooperativo come è scritto anche nei nostri statuti è quello di accontentare i soci, di servire i soci e quindi di conseguenza il territorio. Come si può declinare questa attività fondendola con l'attività classica bancaria? Nell'attività classica bancaria è quella di accontentare e stare molto molto vicini soprattutto alle famiglie e alle piccole e medie imprese che sono quelle a cui noi siamo più vicini proprio in termini di costituzione di banca. Esiste anche tutto un compito che viene assegnato alle banche di credito cooperativo che è quello del sociale e quindi dell'extrabancario e di avere un'attività veramente positiva nei confronti di associazioni e del territorio. Un caso recente che abbiamo posto in essere nel caso dell'alluvione, nello stanziare subito dei plafond a disposizione del territorio per ripartire e soprattutto nel sociale anche quello che è l'attività dei centri medici che sono molto importanti per quello che riguarda l'attività di Banca d'Alba affardata da molti anni. Centri medici vuol dire un'assistenza indubbiamente vicina e importante per i soci, però per fare tutto questo chiaramente ci vuole alle spalle una solidità. Fra l'altro Milano Finanza vi mette come indice fra la banca praticamente più solida a livello italiano. In questo periodo non è poca cosa. Assolutamente. Partiamo per gradi. Prima dobbiamo ben declinare quelle che sono le nostre attività nei centri medici che sono visite fatte per i nostri clienti in cinque centri medici che sono nel Piemonte, appunto uno in Liguria con sede ad Albenga. In dieci anni abbiamo fatto oltre un milione e mezzo di visite gratuite, lo sottolineo, e centomila euro solo quelle che riguardano la Liguria. Non sono solo attività di visite ma sono anche attività di prevenzione per quanto riguarda il diabete, la scoliosi per quanto riguarda i bambini e quindi ci sentiamo molto gratificati di poter porre in essere questa attività. Come diceva lei ci siamo sorpresi positivamente, anche se siamo coscienti della nostra solidità, di essere stati posti al primo posto in classifiche redatte in modo neutro, diciamo, da Milano Finanza in forma annuale. E la solita patrimoniale, che è data da un nostro tier 1 molto importante, intorno al 14%, da sofferenze che sono sotto il 9%, sofferenze nette all'1%, che sono ratios patrimoniali davvero di primo ordine a livello nazionale, ci permettono di poter chiudere anche quest'anno con un utile che sarà, diamo un'anticipazione, credo nell'intorno dei 12 milioni netti. Noi sottolineo che la banca anche negli anni di crisi è sempre chiuso con utili positivi, ricordando che gli utili sono della socialità, cioè dei 56 mila soci e non vengono divisi con un azionista di maggioranza ma rimangono a fattore comune nel patrimonio della banca. Questo utile e questo patrimonio e questa solità ci permettono di poter fare degli investimenti annuali anche molto importanti che sono a favore, come diciamo prima, dei soci e dei nostri clienti che vogliono farne un utilizzo. Sono costi importanti che però noi con grande piacere detraiamo dal nostro bilancio per assolvere la funzione sociale che ci è data proprio dal nostro statuto. Gian Piero Cevattini è il direttore della sede di Imperia, di Banca d'Alba. Ecco allora, presenza sul territorio Ligure, non soltanto ad Imperia, una presenza radicata ormai? No, diciamo che il territorio è coperto da Ceriale fino a San Lorenzo al mare, con delle filiali presenti, questa qui di Imperia, poi la filiale di Anomarina, la filiale di Alassio, la presenza di due filiali sul comune di Albenga ed una a Villanova di Albenga. Diciamo che il territorio è abbastanza coperto, è ben coperto radicalmente perché siamo molto vicine una con l'altra, le filiali. La nostra mission è quella di essere vicino al territorio, di seguire la nostra clientela, i nostri soci in particolar modo e di essere attenti a tutte quelle vicissitudini che possono verificarsi sul territorio durante l'anno. Proprio a proposito di questa cosa, nell'ultimo ottobre, in occasione dei eventi atmosferici che hanno causato dei gravi danni soprattutto alle attività nelle vicinanze del mare, con l'amareggiata hanno avuto notevoli danni e la banca in pochi giorni ha deliberato un plafond a sostegno di questi danni, di questi nostri clienti oppure potenziali clienti di 10 milioni di euro che prevede un anno totalmente a tasso zero, quindi vicini agli imprenditori in modo che il primo anno quando avranno da riniziare l'attività non avranno la pressione di dover rimborsare questi finanziamenti. Il rimborso partirà dal secondo anno soltanto e a seconda degli importi si va a stabilire una durata che come previsione dovrebbe essere nei 48 mesi, però a seconda degli importi e quant'altro ci sono d'eroghe per fare anche durate più lunghe. Abbiamo avuto un ottimo risultato da questa iniziativa e già nella zona soprattutto del Savonese alcuni imprenditori hanno invitato il direttore o la persona che aveva seguito l'operazione a vedere già l'attività che ha ripreso normalmente ad operare, quindi questo per noi è una bella soddisfazione e sicuramente ha fatto sì che la Banca d'Alba sia stata apprezzata anche dai non clienti e ci abbia dato la possibilità e l'opportunità anche di acquisire nuova clientela.